Non ci sta niente a commentare per quanto riguarda la gara, perché vogliamo dire che ha dominato il Cervinare, è pur vero, ha giocato più di noi, però noi comunque siamo entrati in dimoriti in mezzo al campo, tenendo conto che comunque arrivati col pullman siamo stati aggrediti all'entrata dai tifosi del Cervinare e quindi automaticamente ha spendo un poco l'orgoglio dei ragazzi di andare a una certa vogliosa in mezzo al campo per dominare una partita. Stiamo arrivando dagli ottimi risultati, oggi cercavamo di fare anche un buon risultato, purtroppo c'è stato questo episodio che spero che non si ripeta più oppure non ripetano più, perché Cervinare che punta a fare i play-off e poi si trova a fare queste cose grazie ai tifosi, di vincere queste partite sui campi facendo così, soprattutto le partite in casa, mi dispiace per loro, questo per me non è calcio. Lo ripeto e invito più di una volta alla FGC di prendere provvedimenti seri, perché alla fine noi paghiamo onerosamente questo campionato con massimi sforzi sia da parte mia che da parte dei miei soci e ci troviamo a far fronte a questi episodi che rimango veramente molto deluso. No, ma so che non è successo assolutamente niente, sono tutte invenzioni secondo me solo per giustificare qualcosa oppure per creare qualche polemica inutile. Molto probabilmente i tifosi avranno gridato qualche parolina, ma non arrivare a questi atteggiamenti è una polemica che non ci appartiene.